buongiorno miei cari amici volete preparare un'ottima crema di limoncello potete prepararla in casa per la sua estrema facilità oggi vi do la mia ricetta gli ingredienti per questa ricetta sono sei limoni non trattati 250 ml di alcol puro 400 ml di panna fresca 250 ml di latte mezzo cucchiaino aroma vaniglia 500 grammi di zucchero inizio con il prelevare la sola parte gialla della buccia quella bianca ed evitare perché risulta mala metto le bucce nel boccale aggiungo l'alcol mette il boccale in un posto buio fresco lascio macerare per dieci giorni trascorsi dieci giorni riprendo il boccale filtra le bucce di limone metto nel pentolino la panna il latte la roma vaniglia e le bucce porta a bollore tolgo dal fuoco e aggiungo lo zucchero faccio sciogliere e lascio affreddare il composto a questo punto aggiungo all'alcol il composto di latte ormai freddo mescoli il tutto e imbottiglio andiamo La crema di limoncello fatta in casa è pronta, è gradevole e piacevole al palato, ottima anche come digestivo. Questa crema è davvero deliziosa, può essere riposta in freezer, dura fino a 3 mesi. Prima di servire consiglio di agitare bene la bottiglia. Cari amici, noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Ah, dimenticavo, se i miei video sono di vostro gradimento spolliciate, condividete le mie ricette con i vostri amici, mi trovate su Facebook e Instagram, per qualsiasi cosa c'è il mio indirizzo mail.